eccolo qua canam hotlander 400 con relocation kit il kit che consente di rialzare il radiatore per chi vuole fare fango guadi e fa respirare di più il suo atv per chi pensava che fosse impossibile crociani group ce l'ha fatta disponibile da oggi anche per canam hotlander 400 telaio g1